Le immagini di Arezzo realizzate da Fotogirando saranno la bandiera del territorio aretino in America in occasione del Columbus Day che si celebra ogni secondo lunedì di ottobre. Una delegazione della Polizia di Stato di Arezzo si sta infatti preparando per recarsi alle iniziative in programma in New Jersey e i poliziotti hanno così ricevuto un DVD e materiale informativo che sarà mostrato alle autorità americane durante la visita oltreoceano degli agenti aretini. Facciamo un'altra volta una scoperta, al contrario, questa volta è Arezzo che va in America utilizzando, voi sapete che non vogliamo perdere nessuna opportunità per farsi conoscere, il Columbus Day. I nostri poliziotti vanno in delegazione, di Arezzo sono credo 5, 31 in tutti e porteranno la nostra città in America. Facciamo un nuovo sbarco, speriamo favorevole. Beh, è una bella opportunità che riusciamo a sfruttare per portare un po' di italianità e di italianità vera negli Stati Uniti. La comunità italo-americana ci aspetta e noi arriviamo per dargli il nostro contributo. Tante risorse da valorizzare, da qualificare e da esportarle e quindi noi saremo testimoni il più possibile della retinità negli Stati Uniti in occasione del Columbus Day. Saranno le immagini quindi di foto girando a portare nel mondo questa retinità? Assolutamente sì, sarà un'occasione utile e preziosa, quasi ogni anno ormai ci andiamo, però quest'anno è l'occasione per pubblicizzare Arezzo e tutte le qualità che in qualche maniera si rinvengono in questo contesto, in questo territorio. Grazie.